Innovatest ha creato un nuovo sistema di garanzia per i suoi prodotti. Fino a 25 anni, un sistema di garanzia mondiale. Non è richiesto alcun contratto di assistenza. La progettazione e la realizzazione dei prodotti sono considerate un'impresa. In Innovatest crediamo che la nostra attività sia uno stile di vita. Questa convinzione si traduce nelle migliori macchine per prove di durezza al mondo. Più di 130 dipendenti seguono con entusiasmo il nostro stile di vita e come team abbiamo creato dei prodotti unici e l'organizzazione di un servizio che garantisce un'esperienza di utilizzo eccellente in tutto il mondo ed offre la migliore garanzia oggi disponibile da parte di un produttore. Ciò si traduce in un sistema con tre diversi voucher di garanzia, una carta bianca, una carta oro e persino una carta platino che offre la massima copertura. Per esempio, la carta platino Innovatest prevede 25 anni di garanzia per i modelli base, 10 anni per le parti meccaniche, 8 anni per tutte le parti elettroniche e 10 anni di aggiornamenti del software Impressions gratuiti. Tutto questo senza la necessità di alcun contratto oneroso di assistenza e senza i relativi costi da debitare ogni anno. È un sistema molto semplice e chiaro. Potrete rivolgervi al nostro ufficio commerciale per richiedere tutti i dettagli. Innovatest. Siate sicuri.